Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 Radio Radio By Night Roma Ma cos'è che c'è? Informazione, gossip, tendenze, locali, eventi, tutto quello che puoi fare di notte a Roma By Night Roma, tutte le notti, da mezzanotte alle 5 del mattino Niente, dormi, va By Night Roma, By Night Roma, voice of your night, musica for me night By Night Roma, By Night Roma, voice of your night, musica for me night This is the voice of your night, Radio Radio By Night Roma, Cento, Quattro, Echiclue, FM Let's begin, let's begin, let's begin, let's begin Ho capito? Ho capito però dove la faccio capire? Allora vabbè, allora proviamo, va bene? La regola di prima, fai attenzione Figli e 40 carte, da tata 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 tata, amici, metto qua, pa pa, alzo Alzo per non imbrogliare? Bravo, esatto, per non imbrogliare, cavolo, ho alzato per cagliare Tre carte a te, tre carte a me, per terra, attenzione, guarda, non mi fa, per terra ci sono sette belle Asso di danaro, otto e spari, tu in mani di un otto e bastone, capito? Sette belle asso di danaro? Bravo, sette belle asso di danaro, allora vedi che non ne capite niente, e dici, dici, ho capito Tagito, quando sto, ho otto per terra, non puoi pigliare sette e una otto, ti piglio per forza otto Ma perché? Mamma mia, ma perché è una regola, è una regola del gioco, proprio che dici, non si può pigliare Guardi, andiamo, va bene Ma nemmeno la scopera Eh, non so, è colpa nostra, arrivederci maestro, grazie, indietro Arrivederci maestro, però mamma mia, calma, tu fatti la... Sette e una otto, no, no, otto Non ce la fa, ma adesso andiamo subito il via, i nomi, vai, velocemente Velocemente, velocemente volpendo, giusto, sono, eh, Alessio, eccolo Alessio, poi, Marco, sì, Claudio, vai, ci siamo, parte la scena originale Sì, sì, senza, saltiamo una fase, quella intermedia, sentiamo, vai, pronti due Hai capito? Hai capito? No, no, non dici, sì, ho capito, poi non hai capito niente Perché non dici, non ho capito, io ti ho spiegato una volta Ma non fai che l'ha capito, hai capito o no? Ho capito Ho capito, però dove la faccio è che ho capito e non ho capito Allora, va bene, allora proviamo, va bene La regola è prima, fa attenzione Alzo, alzo per non imbrogliare Bravo, per non imbrogliare Uno dice ho alzato Tre carte a te, tre carte a me per terra Attenzione guardi, non mi fa, per terra ci sta Sette belle, asserenare, otto di spade, tu in mano tieni otto di bastone, capito? Sette belle e asserenare Bravo, Sette belle e asserenare Ma lo vica, non ne capito niente E di sì, sì, ho capito Sì, ho capito Sì, c'è un po' 8 per te, non pu pigliare 7 e 1,8 Ti pu pigliare 8 Ma perché? Ma mamma mia, ma perché è una regola La regola lo gioco che dice a così, non so può pigliare Da andiamo, va, si va via Ah, nemmeno a scopo, è una cosa che... Eh, lo so, è colpa nostra, arrivederci maestro, grazie andiamo E arrivederci maestro, però, mamma mia, Carmen stufata Número 1, tutti e 3 Sette, 1, 8, 8, 9 Radio, radio, by night Roma 104.5 Ciao, ciao, ciao